In teatro ha interpretato il duello di Von Kleist, Jeffrey di Paul Rudnick, Antigone e Edipore di Sofocle. Il postino suona sempre due volte di James M. Cain, Virre de Vivo di Massimo Vincenzi. Carte in tavola di Agatha Christie ed altre varie opere. Per il cinema e la televisione ha preso parte alla squadra. Codice rosso, distretto di polizia, nati ieri, cuore contro cuore, cardio fitness, questa notte è ancora nostra. Come attore è apparso anche in l'ultima volta insieme nel 1981. Diretto da Nini Grassia, ha doppiato film come Mission to Mars, The Good Sheffield, Carlitos Way Scalata al Potere e molti altri. Tra i ruoli più importanti in serie televisive Saeed Diarra in Lost e Brian Moser in Dexter. Dal 1992 è il doppiatore ufficiale di Goemon Ishikawa negli anime di Lupin III. Insegna inoltre doppiaggio presso la voice articolo dubbing. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.